Salve. Non è possibile essere indifferenti rispetto ad una denuncia da parte dei lavoratori dell'Amazon che ieri hanno incrociato le braccia per il modo in cui queste migliaia di lavoratori lavorano in uno stato disumano. È veramente qualcosa di vergognoso in un paese come il nostro. Parliamo di un colosso, lo ripeto, Amazon in tutto il territorio nazionale e che c'è da dire che durante questa fase della pandemia ha avuto un incremento di fatturato non indifferente. Sappiamo anche perché, perché la gente non potendo recarsi nei negozi ha fatto gli acquisti attraverso online e quant'altro. La cosa vergognosa quando sento delle dichiarazioni io in qualità di responsabile sindacale nazionale nel mondo dei trasporti, quando sento dichiarare un lavoratore che non vi sono previste pause, che addirittura non si riesce ad andare addirittura in bagno. Io trovo questa situazione estremamente vergognosa in una situazione come quella attuale del lavoro dove viene attenzionato la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sappiamo bene che gli orari e la tempistica sono quelli che conducono maggiormente agli infortuni gravi nei luoghi di lavoro. Ebbene, ci troviamo oggi ancora a fare denunce simili. Sono inaccettabile perché qui c'è da dire e allora dove era il sindacato fino a questo momento? Dove è stato il sindacato? Dove erano i rappresentanti per la sicurezza? Com'è stato possibile che solo oggi si viene allo scoperto per fare una denuncia del genere? Ci rendiamo conto delle difficoltà o delle paure, delle intimidazioni che possono subire i lavoratori ad erenda di uno show? Ma non è possibile che solo oggi viene fuori una denuncia così grave in un paese come il nostro dove si sono fatti passi da giganti, voglio dire, per quanto riguarda sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono, ripeto, inaccettabile, non è possibile sentire delle dichiarazioni, fanno venire i brividi da qualsiasi punto di vista. Quindi bisogna chiedere subito un'apertura di una trattativa nella quale vado a disciplinare la tempistica, vado a disciplinare le pause che questi lavoratori hanno diritto sacrosanto, addirittura ancora con un contratto generico, ma ci rendiamo conto senza tenere conto di una cladatoria per quanto riguarda i livelli professionali, i rischi. Cioè noi a questo punto non possiamo continuare a restare impassibile rispetto ad una situazione del genere. E poi dove sono le tante, come dire, visite che vengono fatte per quanto riguarda i controlli da parte degli ispettorati del lavoro, da parte dell'Inail? Come mai non ci sono mai state visite da parte di questi enti per effettuare i controlli di come avvenivano e come avvengono queste lavorazioni? Ritengo un fatto estremamente grave, alla quale bisogna che a carattere regionale e nazionale se ne prenda atto e si mette subito mano per dare una dignità a questi lavoratori di Amazon, perché non sono lavoratori, come ho sempre sostenuto, di serie B. Alla mattina questi si alzano per poter portare il proprio pane ognuno a casa e quindi non è possibile che ancora adesso si usano forme di sfruttamento di questa specie. Lo ripeto per l'ennesima volta, dove erano le organizzazioni sindacali? Dove sono state? Perché non diventa possibile all'interno di una realtà, di un colosso del genere, dove non vi era un sindacato che sistematicamente avesse il controllo di come si procedeva alle lavorazioni e come i lavoratori subivano queste angherie e sfruttamenti di lavoro. Quindi è ora di dare voce a questi lavoratori, ma soprattutto alle loro richieste. Bisogna farsi carico a livello sindacale delle loro richieste e ridare la dignità a questi lavoratori.